Che cosa siamo noi? Chi siamo noi? A cosa serviamo? Nasciamo, viviamo e moriamo. Sapere perfettamente tutto non è una cosa semplice, nessuno non nasce senza qualche capacità. Chi fa del bene o del male e chi non si accorge di nulla. Che cosa siamo noi? Chi siamo noi? A cosa serviamo? Nasciamo, viviamo e moriamo. Sapere perfettamente tutto non è una cosa semplice, nessuno non nasce senza qualche capacità. Che cosa siamo noi? Chi fa del bene o del male? Che cosa siamo noi? Chi siamo noi? Che cosa siamo noi? Chi fa del bene o del male? Non è una cosa semplice Se vogliamo ovviamente capire Dottor famosa per ascoltare Sentire il nostro interno Scoprire il nostro passato Esaminare il presente E prevedere il nostro futuro Se vogliamo ovviamente capire Dottor famosa per ascoltare Sentire il nostro interno Scoprire il nostro passato Esaminare il presente E prevedere il nostro futuro Se vogliamo ovviamente capire Dottor famosa per ascoltare Sentire il nostro interno Scoprire il nostro passato Esaminare il presente E prevedere il nostro futuro Se vogliamo ovviamente capire Dottor famosa per ascoltare Sentire il nostro interno Scoprire il nostro passato Esaminare il nostro presente E prevedere il nostro futuro E prevedere il nostro passato Sì Un altro, il nostro corso